E' inutile fare qualsiasi presentazione, io proprio vicino ad un mito non mi azzardo. Si libero di fare quello che vuoi ma io un mito non mi sento. No, va bene, va bene. Credi? Albano, Albano. Sono un essere umano, mi chiamo Albano Carrisi e sono pronto per rispondere alle tue domande. Allora, parliamo di vino. Oggi qui ad Asti si parla di vino. Albano è venuto qua non per cantare ma per parlare di vino. Allora, il tuo rapporto con il vino è quale? Guarda, io ho sentito l'odore del vino già all'età di 3-4 anni e mia madre mi raccontava un aneddoto che mi ha fatto abbastanza ridere. Dice che mio nonno mi rubava a lei e mi portò in un'unica osteria che c'era l'accesso a Marco e arrivava mezzo... E mia madre si incazzò da morire. Non devi più prendere. Allora, diciamo che il battesimo del vino l'ho avuto da 4 anni. E poi c'è una passione perché il vino merita rispetto, merita... Poi è una storia incredibile, una storia fatta di umanità, fatta di perizia, fatta di amore. E come fai a non amare un elemento del genere? Dico sempre una cosa, il vino e l'olio sono delle medicine, le primordiali medicine dell'essere umano. E il vino devi prenderlo ma sempre con grande intelligenza. L'intelligenza sta nel saper dosare la quantità che metti e allora diventa medicina, altrimenti può diventare un'altra cosa. A un grande interprete della canzone italiana e della musica non posso non chiedere se c'è un rapporto tra il vino e la musica. E quale tipo di rapporto ci trovi? Guarda se tu senti canzoni, senti brani d'opera, il vino è sempre protagonista. Se pensi li diamo, li diamo, se pensi mamma quel vino è generoso, certo oggi molti bicchieri ne ho traccannati, vado fuori all'aperto e tanti, 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 tanti. Felicità, un bicchiere di vino, ne vuoi altri? No, stanno a bizzefa. C'è adesso la realtà dei vini di Albano Carrisi, è importante, no? Tu hai detto qui un milione e 600 mila bottiglie, vuoi arrivare a 5 milioni di bottiglie, ma vuoi arrivarci perché? Perché il tuo amore oppure per che cosa? Io voglio arrivarci perché me lo chiedono e devo arrivare a quella cosa. Ovviamente non dimenticherò mai che il vino va trattato per la qualità e io vivo da sempre per la qualità, la qualità della vita, la qualità delle cose che faccio sia nella musica che nella vita. Grazie. 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 Grazie.